buongiorno, no, non ho una gemella, ero di pecchio ehi ciao a tutti io sono Cinzia e questo è un nuovo video con gli effetti di snapchat o instagram buongiorno, mi sono svegliata stamattina e ho detto che cosa facciamo oggi facciamo un bel video con gli effetti di snapchat oddio questo mi sta carino, non mi piacciono tanto questi occhiali ma comunque siccome mi sono svegliata adesso mi vado a fare il latte quindi andiamo a fare il latte ok, prendiamo la tazza ehi, chi fai tu? ciao, ciao, ciao stai ballando? va bene, prendiamo la tazza la mia tazza questa di qua bella, bella vabbè, ciao, ciao, ciao ci vediamo eh, ciao, ciao poi ci abbiamo il latte ora azioniamo la macchina azione non la posso fare con una mano dovrei fare così e poi girare la manovella aspetta che la giro dopo aver scombinato il disastro il latte è pronto aiuto, perfetto aiuto non lo riesco a uscire va bene, ora lo riesco ciao ragazzi, la cosa più buona del mondo il blue cake non ho la nutella altrimenti il blue cake è là se mia mamma dice che c'è la nutella ma in realtà non c'è non c'è, si è finita si è finita la nutella c'è davanti si vede davanti, davanti a me ecco la nutella si, ingrassiamo vi sembra normale che stava posando la nutella? c'è, c'è no brown cake e nutella andiamo, andiamo a fare il brown cake con la nutella inzuppato nel latte è la cosa più buona del mondo dovete provarla dovete provarla assolutamente panino fatto buon appetito inzuppiamo mamma che buono allora siccome mi sto annoiando aiuto voglio fare uno slime lo facciamo insieme colla siete pronti? guardate che qui piettino forbici spugna dixan colori chi più ne ha più ne metta allora partiamo con la colla mettiamo la colla e dopo scegliamo un colore tra questi non lo so quale e lo addensiamo subito dixan dopodiché voglio tagliuzzare questa aiuto questa spugna poi voglio aggiungere anche questi e anche questi cioè voglio aggiungere tipo di tutto e di più tutto qui dentro pronti? guardate che carino il palloncino ciao palloncino ho dimenticato a dirvi che ci sono anche i brillantini ehi ehi chi sei tu? che cosa vuoi? i brillantini ciao ciao partiamo con colla colla vinilica no senza colla vinilica tanta colla tanta colla tanta colla ok ho fatto prima di aprire il tappo e bagniamo il broccoletto ciao ciao broccoletto la doccia al broccolo tons 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 eeeh signor pappagallo salve oh che colore mettiamo in questo slime? rosso giallo azzurro i colori del pappagallo oppure non lo so che colori mettiamo? che colori mettiamo? il mio pappagallo e possiamo mettere blu? mischiamo un po' di colori dai grazie signor pappagallo molto gentile lei grazie e lui balla balla salve ho deciso rosso e blu che colore formiamo con rosso e blu? lo volete scoprire? eccolo qua ehi ciao ciao lefante ma quanto sei grosso non ci entri va bene mettiamo il blu ok e mettiamo il rosso messi che poi il blu è rosso siamo come il nostro amico qui elefantino che gli scappa la pipì col cappellino rosso va bene mischiamo vediamo siete pronti? è viola nella fotocamera tipo sembra nero ma è viola scuro magari aggiungiamo un po' di bianco vediamo che cosa esce fuori ho aggiunto il bianco vai forse un po' troppo poco però almeno si schiarisce io lo voglio così chiaro è molto meglio si signora broccola molto meglio molto meglio che bello ragazzi c'è anche perché adesso dobbiamo aggiungere i brillantini si brillantini broccola i brillantini e viola e viola e viola e viola e adesso ragazzi brillantini bello è l'ora di mettere il tixan facciamo la doccia a questo crocetino siete pronti alla reazione ragazzi mischiamo come fa la giraffa mischia oddio guardate già dire che ho una mano sola mi servirebbe una mano un'altra mano per tenere il piatto ma vabbè questo è il nostro slime violissimo violissimo giriamo si gira tutte cose aiuto 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 niente raga mi servono due mani ok si è addensato ragazzi bellissimo adesso dobbiamo andare a mettere cosa mettiamo prima spugna polisterolo oppure i pisla andiamo con il polisterolo neve siete pronti e neve sia yeah neve 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 oddio basta tanta neve tanta neve e adesso è il turno dei pisla pioggia di pioggia di plipliplisla che belli oddio basta troppi guardate che bello tutto colorato bellissimo guardate il mio slime bellissimo uff uff vado a tagliare tutto pronti oddio aspetta devo fare dei quadratini che carini aiuto aiuto i pillantini sono caduti li hai metto ancora siamo pronti dobbiamo andare a schiacciarlo andiamo a schiacciarlo sono un po' emozionata pronti guardate che belli i pisla mi piacciono assai aiuto via 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 si sta amalgamando tutto che bello è una sensazione troppo bella ecco pisla via via vediamo che bello oddio è un mazzurrino via ragà si è stupendo guardate guardate che meraviglia c'è uno slime così non l'ho mai visto super crunchy oddio sentite il rumore bellissimo 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 abbiamo di tutto e di più qua dentro ho le mani di un mostro aiuto le devo andare a lavare assolutamente ragazzi vai il nostro slime è riuscito volevo fare uno slime e l'ho fatto mi stavo annoiando quindi cosa faccio oggi uno slime molto ingarbugliato però mi è riuscito molto bene molto crunchy pugna pizza friterolo vai tutto insieme va bene io direi che posso concludere il video così io spero che vi sia piaciuto vi piaccia la mia vocina molto dolce e niente io vi mando un bacione guardate che sono carina la qualità non è eccezionale perché lo sto facendo con snapchat però avevo questa idea in mente di fare questo video con questo vlog questo video vlog con snapchat per mettere tutti questi effetti così ho detto ma si chi se ne frega della qualità se poi il video è divertente giusto e niente io vi saluto vi mando un bacione enorme con la mia voce naturale vi 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 tantissimo ragazzi vi mando un mezzo cuore perché con l'altra mano tengo il cellulare ancora un bacio e se non siete iscritti iscrivetevi mettete un pollice in su se vi piace questo tipo di video con snapchat eccetera eccetera ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao mi raccomando commentate giù nei commenti su non lo so quello che volete se vi piace il suo tipologio di video va bene ciao 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 dal coniglietto e dallo slime pure guardate che bello è stupendo ciao 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 ciao